11 maggio 2011, qua siamo ai Cubi, in diretta dai Cubi, io sono Amarsuper, come vedete la riga è semi chiusa, abbiamo fatto il bagnetto, oggi è una giornata bella, sono 27-28 gradi, direi che si sta benone e niente, qua è tutto ok, ciao, salutiamo gli amici, e niente, se sta bene è tutto ok, vi voglio un mare di bene, un bacio, venite ai Cubi che ci rivertiamo, ciao! Ciao!